Musica E' un acquisto di cui sono entusiasmato. Sono le 300 euro meglio spese, i peli superflui sono sempre stati un mio cruccio e come penso tutte le donne, io ho un pelo molto nero e molto spesso che ricresce con una rapidità sorprendente e l'idea di andare a spendere così tanti soldi dall'estetista con una richiesta di costanza notevole mi ha sempre spaventato. Ho preferito comprarmi questo dispositivo così lo potessi fare in casa, la negatività qual è? Che te lo devi fare in casa, quindi ti ci devi impegnare, ti ci devi dedicare un'oretta per farlo bene. I risultati ci sono perché i peli sulle mie gambe sono diminuiti proprio del 60%, l'avrò fatta sulle gambe tre volte, confido nell'estate di essere quasi a zero. L'altra parte negativa è il fatto che la finestrella è molto piccola, quindi bisogna fare diversi passaggi per essere precisi ed essere sicuri di aver preso ogni pelo, ogni bulbo pelifero. Quindi non è sempre facile organizzarsi ed essere iper precise, però vi posso dire che se siete disposti a dedicarvi del tempo e avete questa indole precisa e organizzativa, sicuramente è un acquisto che dovete fare. Soprattutto questo che anche se è il più costoso è quello che permette di non spendere successivamente perché non è necessario il ricambio delle lampade e in più i risultati si vedono. Quindi questo è tutto quello che vi dovevo dire su questo mio autoregallo di Natale, un regalo di cui sono soddisfattissima e spero che il video vi sia piaciuto, spero che il video vi abbia dato spunto, se comprarlo o meno, comunque vi abbia dato un'indicazione in più, una conoscenza in più rispetto alle vostre. Vi lascerò il riferimento ai miei vari social nell'infobox e vi ricordo che a raggiungimento dei 500 iscritti aprirò il giveaway con pieno di prodotti per voi. Iscrivetevi al canale se non volete perdere i prossimi video, spero che questa tipologia di video interattivo, quindi diviso in tre parti, vi piaccia. Aspetto tutti i commenti così da avere uno scambio di opinioni con voi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazze!